Liti violente, spaccio, assunzione di stupefacenti, scippi e blitz delle forze dell'ordine. Questa è la realtà che vivono a Campodimarte dipendenti dell'Asla che lavorano nel Dipartimento della Prevenzione del Centro Vaccinale, ad intervenire Gian Maria Ciai, segretario provinciale della Funzione Pubblica CGL. Una situazione prosegue non nuova e che ovviamente era conosciuta dall'Asla Toscana Sud-Est quando decise di trasferire in questa zona calda di Arezzo questi servizi. L'amministrazione dell'azienda ricorda Ciai si era impegnata a garantire la sicurezza ai lavoratori e alle lavoratrici di quella sede e conseguentemente all'utenza attraverso un servizio di vigilanza e installazione di un campanello, misure che si sono rilevate insufficienti e che stanno alimentando le preoccupazioni di chi opera in questi servizi. Il personale si sente lasciato solo a presidiare un ambiente urbano e sociale degradato in cui sembrano sospese le più elementari regole di convivenza civile. A Ciai poi contesta la replica dell'azienda alle richieste sindacali. Sono inaccettabili le affermazioni che l'Asla non sia chiamata a rispondere di quanto accade fuori dall'edificio. Non intendiamo attendere l'esito di questo surreale esperimento sociale fatto a spese di lavoratori e lavoratrici del servizio sanitario pubblico. E come funzione pubblica chiediamo che i protocolli sottoscritti dal direttore generale con la prefettura per contrastare le aggressioni al personale sanitario siano aggiornati, potenziati, allargati ad altri soggetti come il comune ma soprattutto con clude a Ciai attuati.